buongiorno ragazzi allora oggi finalmente cominciamo un argomento nuovo prendete come al solito il libro di storia sette mari volume 1 e stavolta dovete andare a pagina 79 dove vi attende quindi pagina 79 ok dove vi attende vi dicevo un signore il faraone ramses il farone ramses ramses secondo ok andate a guardare ecco questa bellissima stupenda statua e per l'appunto il faraone ramses secondo allora ragazzi che cosa vi posso dire dunque intanto prima di tutto noi oggi non affronteremo in maniera dettagliatissima l'egitto perché mi sono fatto due conti se noi dedichiamo troppo tempo all'egitto rischiamo praticamente di rimanere troppo indietro quindi purtroppo ci dovremo accontentare ci dovremo accontentare di una rapida incursione nella civiltà egizia nemmeno nella storia c'è la storia la guarderemo proprio per sommi capi allora girate pagina e trovate una importante cartina tematica in fondo a pagina 80 va bene io tuttavia vi metto in presentazione vi metto in presentazione in modo da farvi vedere una cosa allora dovrebbe essere questa allora vi faccio vedere intanto ecco qua scusa ecco qua questa cartina dell'egitto va bene legito ok dell'egitto antico e allora cosa possiamo notare ragazzi intanto io vorrei farvi vedere una cosa faccio devo purtroppo fare un'altra ricerca ma ero preparata prima però adesso mi è venuta un'altra pensata e vediamo il deserto del sara però come cartina fisica ok e allora perfetto dunque guardate il l'africa intanto ecco guardate qui questa è la cartina dell'africa geofisica in realtà è anche politica e politica allora come potete vedere questa è l'africa stupenda e meravigliosa dove si trova l'egitto bene ragazzi oggi l'egitto è solo questo pezzo qua va bene e ecco cosa possiamo notare che in tutta questa fascia che possiamo vedere allora in tutta questa fascia di deserto il sahel che possiamo vedere qual è l'unica zona che ha una forte ricchezza d'acqua questa qui del nido ora perché vi ho fatto vedere questa cosa perché ragazzi dobbiamo fare un attimo un salto all'indietro come mai questa zona è abitata in verità ecco nell'ultimo periodo nell'ultima glaciazione è ultima la ultima era glaciale vediamo se ci dà anche qualche bella cartina vediamo se magari troviamo fantastico ecco qui ragazzi mi zica meglio di così non poteva non poteva capitare allora allora meglio di così non poteva capitare ecco apri immagine in un'altra scheda guardate questa questa cartina ragazzi eh se guardate questa cartina che fa una finzione una proiezione di quella che deve essere stata l'ultima glaciazione come vedete tutta questa parte era ghiacciata ci siamo ok allora le temperature sul nostro pianeta erano molto più basse e il deserto del sahara quello che oggi è il deserto del sahara all'epoca invece non era deserto ma era una zona verdeggiante lussureggiante tant'è vero che soprattutto in questa zona del magreb ci sono un sacco di resti di pitture rupestri va bene cioè di pitture sul roccia dentro nelle caverne dove vengono rappresentate battute di caccia raccolta di frutti e così via ci siamo ragazzi e allora ecco questa zona dunque era lussureggiante quando i ghiacci si ritirano questa zona diventa così diventa si diventa arida e si trasforma nel deserto del sahara che in realtà non è tutto di sabbia in realtà parte di sabbia e parte in pietrisco però vabbè diventa il deserto del sahara e allora le popolazioni che vivevano in tutte queste zone dove vanno a finire man mano che il territorio si desertifica avviene che una parte della popolazione si spinge verso questa zona qua la cosiddetta catena montuosa dell'atlante della classe verso questa zona qui e verso la zona settentrionale in parte una parte scende giù verso il sahel nella zona tropicale e una parte si sposta da questo lato dove c'è il mar rossa e soprattutto dove c'è il nilo va bene ragazzi ed è così che avviene il popolamento di questa zona qui appunto perché la gente una parte va a nord una parte va verso le coste una parte la sud una parte va a est questa ovest a est va a est presso il nilo ora come funzionava però è come funzionava funzionava in questo modo intanto vi faccio osservare una cosa ragazzi il nilo che un fiume immensamente lungo sfocia nel mediterraneo ma come potete vedere nasce in questa zona dell'africa ok tra alto piano etiopico e sudan va bene allora a questo punto forse io mi pare che avevo messo il corso del nilo benissimo di allargo questa zona qui l'allargo in questo modo ecco questo vedete tutto il mi questa è la parte settentrionale questa parte qui vedete col delta del nilo ma il percorso del nilo e tutto questo allora come vedete questo è lo sfociare nel mediterraneo poi c'è tutto il corso del nilo nilo che però ecco diventa un unico fiume a partire all'incirca da kartum dalla zona di kartum che sarebbe la capitale del sudan del nord perché poi c'è il sud sudano che è un altro stato allora cosa possiamo notare che ci sono due fiumi che sono affluenti del nilo e che poi si trasformano nel nilo uno è il cosiddetto nilo azzurro che proviene dal lago tana l'altro è invece il nilo bianco che proviene da questa zona qua appunto le sorgenti del nilo questa zona qua che si trova tra kenia tanzania e uganda questo quadratino qua a come focus quest'altro quadratino qua vedete questa macchia blu e questa macchia blu qua va bene il lago vittoria questo è il lago cuoca va bene e il lago alberto che sarebbe questo allora come vedete il lago vittoria da origine al nilo bianco questo che fa questo percorso e il lago vittoria si trova tra tanzania kenia e uganda quindi possiamo dire che il nilo nasce in uganda poi arriva qui e finisce in sud sudan passa nel sud sudane questa parte qui va bene oggi è un nuovo stato passa dal sudane arriva in quello che oggi è l'egitto ma anticamente quando si parlava di egitto si intendeva ecco qua tutto questo percorso va bene tutto questo percorso il che praticamente significa praticamente fino al nilo bianco scusatemi ecco qua fino praticamente a qua va bene fino a praticamente al sudano ok un'altra cosa che vi devo dire eccolo qua dov'era scusatemi ecco vedete questa bella cartina allora state attenti ragazzi guardate questa zona che era quella sul mar mediterraneo veniva chiamata basso egitto mentre questa zona che va verso le fonti del nilo si chiama tutta questa zona qui alto egitto dunque ragazzi allora state state attenti quando si parla di alto egitto basso egitto queste cose così alto e basso qua la presenza di fiumi sinte ma non solo per basso si intende ciò che è più vicino al livello del mare mentre per alto si intende ciò che è più in alto rispetto al livello del mare ora voi capite benissimo scusate controllo sto presentandosi voi capite benissimo che ovviamente da la parte le parti dove ci sono le montagne e i fiumi partono dalle montagne sono parti più alte rispetto all'altitudine rispetto cioè all'altezza in riferimento al livello del mare le parti vicino al mare ovviamente sono vicino al mare sono alte come il mare sono qui basso di solito e vicino al mare alto e nelle zone interne che sono di solito più sopra elevate so right va bene allora per basso egitto si intende questa zona del delta del del nilo questa zona ecco qua del delta del nilo ok vicino all'antica capitale di mainfi vedete che qua ci sono rappresentate le tipiche case dei dei popolani egizi o monolocali oppure due massimo tre stanze va bene allora questo è il basso egitto e il resto ecco si chiama e invece l'alto egitto benissimo allora ragazzi che cosa possiamo dire vi ho fatto questa introduzione spero che abbiate chiuso mamma mia va bene pazienza casomai la la ricerchiamo allora quello che per sbaglio chiuso mi dovete ecco no perfetto abbiamo quest'altra cartina che era l'altra che avevo cercato e che perfetta certo quello mi sarebbe servito ancora però pazienza non perdiamo tempo a cercare anche perché già scherzando scherzando sono passate passato un quarto d'ora più di un quarto d'ora ragazzi allora vediamo un poco come vedete io ragazzi non voglio perdere molto tempo a parlarvi della storia d'egitto proprio ci andiamo in maniera come dire abbastanza veloce dunque questa questo popolarsi dell'egitto che vi ho detto successivamente alla successivamente alla al ritirarsi della l'ultima glaciazione questo popolarsi avviene a partire quindi dal all'incirca 10.000 8.000 avanti cristo va bene riconosciamo come storia dell'egitto vera e propria un periodo cosiddetto pre dinastico che va all'incirca dal 5.500 avanti cristo al 3.000 avanti cristo quindi come vedete siamo proprio immediatamente dopo il neolitico va bene siamo immediatamente dopo il neolitico perfetto e siamo quindi nell'età del rame quantunque abbiamo visto come gli egiziani conoscessero già il ferro perché per esempio esiste quel pugnale in ferro meteoritico che è una cosa stupenda 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 il pugnale di tutankamon perché sono praticamente dei meteoriti li abbiamo già visti iron metric metric iron di metallo puro vabbè bla 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 quello l'abbiamo visto a suo tempo non c'è bisogno di vederlo adesso e allora abbiamo questo periodo predinastico predinastico vuol dire un'organizzazione ancora ancora non efficacissima non efficacissima del della realtà cosiddetta egizia e poi abbiamo però finalmente la nascita del dell'antico regno anti e anche quanto riguarda l'antico regno possiamo andare a vedere la cartina allora antico regno predinastico antico regno va dal 3.100 avanti cristo al 2.200 avanti cristo va bene poi abbiamo un periodo intermedio che in realtà va come vedete dal 2.200 al 2.040 questo periodo intermedio che sarà un periodo di crisi dell'antico regno poi abbiamo il medio regno e medio regno vuol dire regno di mezzo il antico regno medio regno il nuovo regno sono stati periodi di maggiore splendore dell'egitto il medio regno va dal 2.040 al 1.785 avanti cristo poi abbiamo dal 1.785 circa al 1.550 un altro periodo di pesantissima crisi di caduta proprio della civiltà egizia e poi il periodo forse di massimo splendore in assoluto il nuovo regno tra il 1550 e il 1060 avanti cristo dopo questa dopo questo periodo dopo questo periodo che va dal 1060 al 332 quindi dal la cosiddetta epoca tarda che va dal diciamo 1060 circa al 332 avanti cristo con la conquista compiuta da alessandro magno alessandro magno nel 332 conquista reggito questo periodo tra il 1060 e il 332 avanti cristo è un periodo lunghissimo di decadenza in questo periodo l'egitto diventa una provincia dell'impero persiano che di cui però attualmente non sapete nulla con alessandro magno diventa uno dei più importanti regni ellenistici di cui non sapete ancora nulla e che per il momento non ce ne frega niente approfondirlo torniamo quindi a noi allora quando parliamo di ecco qua ecco qua quando parliamo di antico regno quando parliamo di antico regno e ragazzi il limite massimo dell'antico regno è stato questo va bene ci siete dove c'è la cosiddetta prima cateratta cioè prima sorta di cascata chiamiamola così non è proprio corretto però insomma quindi primo l'antico regno quello 3 grandioso il grandioso antico regno tra 3.100 e 2.200 avanti cristo circa mille anni quindi ha come limite questa zona qui va bene si considerava sempre basso egitto e alto egitto va bene poi abbiamo il medio regno col medio regno l'egitto arriva sino praticamente a questo confine cioè alla nubia che sarebbe praticamente dove c'è il sudan e poi con il nuovo regno qui sotto alla quarta la quarta cateratta e questa è la massima espansione dell'egitto ragazzi vi voglio far vedere una cosa è questo tutto quello che vi dico sulla storia d'egitto non me ne frega niente di dirvi di più mi interessa invece farvi vedere alcune cose allora l'egitto rivediamo il percorso del nilo il percorso del nilo ecco qua immagini nilo percorso benissimo allora 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 era questa qui la cartina che avevamo la riprendiamo donk chissà che vediamo ed ecco qua allora mi metto qua e apro benissimo allora ragazzi vedete qua è vedete 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 ok andiamo a vedere adesso questa cartina quindi paff paff di nuovo chiuso è gesù allora google immagini allora vi dicevo dunque nilo percorso allora ce la faremo scusate la mia dabbedaggine allora apri immagine passiamo la pietta ecco qui come vedete come vedete come vedete vedete il percorso che fa sale così quindi se andiamo a guardare in questa cartina ecco qua questo era il limite massimo va bene ragazzi eh allora guardate bene il corso del nilo trovate il nilo azzurro che parte dal lago tana e eh qua il lago vittoria il lago alberto bla 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 da dove da qui parte il nilo bianco giusto allora ragazzi circa due volte all'anno qua avevamo questo percorso molto regolare succedeva che a causa dell'aumento delle piogge in questa zona del disgelo eh dei ghiacciai e così via questo nilo azzurro si ingrossasse anche questo dire la verità e arrivando qua il carico di acqua diventava tantissimo e allora il fiume nilo esondava a destra e a sinistra ci siamo cosa comporta quindi lo ripeto vedete ci sono questi due fiumi l'acqua scende a un certo punto la portata del nilo azzurro diventava tantissima e l'acqua dentro il fiume dentro il letto del fiume diventava troppa questo che cosa comportava ragazzi quindi Julian Grazie.